Cazze Mallandia, reduce da sei vittorie consecutive, la capolista cadetta dovrà fermarsi per motivi di ordine pubblico, rischioso per l'incolumità degli spettatori, giocare la partita con la regina. Il club ha preservato il manto erboso coprendolo con i teloni, ma i problemi legati alla viabilità e la coltre bianca ormai ghiacciata sulle tribune han fatto il resto. Oggi pomeriggio, ultimo sopralluogo allo stadio, ma non si registreranno sorprese. Il presidente Sebastiani è perentorio in materia. Purtroppo le condizioni sono negative, ma la cosa brutta è che le previsioni sono peggio, quindi difficilmente si può risolvere il problema perché il campo è coperto, il comune si è preoccupato, il sindaco ha fatto sì che il manto erboso venisse coperto, per cui non ci sarebbero problemi. Il problema sarebbe di ordine pubblico perché con la neve che ha praticamente coperto la città, gli spalti dell'Adriatico, è un po' difficile far entrare gente, anche per questioni di responsabilità. Zeman la prende con filosofia, avrebbe preferito giocare visto il buon momento. Il discorso dei spettatori, che sui spalti di solito la neve c'è, può essere pericoloso per qualcuno e quindi la responsabilità se la devono prendere quelli che decidono. Appoggio degli olivi, imbiancato come non mai, i primi sorrisi biancazzurri per i neoacquisti caprari e ragni dovranno attendere altri sette giorni per la loro prima volta.